Adesso state zitti, perché è filmato, scusa, non è una foto, è un filmato. Sai dove puoi andare? C'è una foto, abbiamo visto, sono oggi 100 anni, non è una foto. C'è un'equipe di carcellolo, c'è un figlio della terra. Perché sono le bocche. Potete anche parlare, perché l'ho messo su YouTube quella sua. No, talmente balla. No, insomma, per il sito. Per il sito. Per il sito. Quella è scorda, quella era prima, adesso non è più qui. Cosa stai mangiando, Giunella? Sicoria? Sicoria? Anche con quello elettrico, che non so molto, perché quello è il primo video. Però non è giusto, tu non vieni mai. Faccio io? No. Ciao. Come è romantico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.